Villa de Capua è nata nel 1809 come orto botanico. Nel 1875 la contessa Mariana de Capua donò la villa all'orfanotrofio che porta il suo nome. Il giardino all'interno è in stile neoclassico romantico. Il cancello in ferro battuto all'entrata è opera dell'artigiano campobassano Giuseppe Tucci. Ma quello che è considerato da tutti il giardino della città presenta molti aspetti critici, soprattutto per l'accessibilità al luogo. Infatti i viali pavimentati con la ghiaia non permettono a carrozzine e sedie a rotelle di passeggiare agevolmente e di godersi lo spazio verde. Occorrerebbe inoltre più pulizia, maggiori controlli e più ore a disposizione dei cittadini per usufruire dei giardini. Villa de Capua è uno spazio importante per la città, ma spesso viene sottovalutato. Un'opera d'arte, patrimonio dell'intera comunità. Pertanto va protetta e curata, ma allo stesso tempo valorizzata e resa accessibile a tutti.